Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del Gobbo Toscano che deve uscire per forza di cose perché scusatemi ma quando sento dire troppe cose non vere sul tubo è giusto che uno prenda un attimino una decisione e vada in una direzione o in un'altra perché è giusto che anche voi che seguite i giornalisti, i youtuber, i blogger tutti quelli che volete voi, gli influencer, abbiate però la conoscenza di alcune cose, alcuni dettagli che tanti non vi dicono, tanti vi dicono, quindi è giusto prendere una posizione, questo canale prenderà una posizione assolutamente intanto vi chiedo lasciate like, iscrivetevi al canale e a fine video commentate mi raccomando cercando di spiegare il commento con la vostra motivazione e il sottoscritto vi risponderà al più presto di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare della Juventus in vendita allora escono gli articoli, poi escono le smentite, poi gente che dice no che la Juventus non può essere venduta che deve rimanere a Ragnelli, che deve rimanere di qua, che però allora si sta uscendo dalla borsa allora c'è un caos e un marasma di cose vere e non vere io siccome avevo alcune notizie su determinate condizioni della Juventus che ho sempre riportato nelle mie live ma prontamente alcune persone continuavano a dire no ma non è così, ma non è cosà, ma non è così e non è cosà e io ho sempre detto ma sulla base di cosa mi viene detto che non è così e non è cosà perché io lo so, il perché io lo so a casa mia non funziona più da oggi il perché io lo so è un sinonimo di non sapere perché io ad oggi vi posso dire che le cose che so io da persone che mi informano sui fatti vengono rafforzate dalla mia richiesta di info ad altri youtuber di cui io mi fido che qualcuno mi dice sì, quello che mi dici anche secondo me è così e infatti mi sembra strano il discorso che la Juventus non possa essere ceduta altri addirittura mi dicono giustamente come sapeva il sottoscritto che non può essere venduta per i membri della fondazione Gianni Agnelli e allora ci domandiamo ma Elkan fa parte della fondazione Gianni Agnelli? faceva assolutamente parte ma non ne fa più ne è uscito andate a leggere andate a cercare bene e poi parlate quindi prima cosa la Juventus può essere venduta la Juventus può essere venduta anche il 100% delle azioni no che la maggioranza deve rimanere a Tizio la minoranza a Caio e la differenza a Sempronio no, no, no in passato era così, ad oggi non è più così perché lo scritto, la scrittura diceva, recitava tali parole se vogliamo essere un po' più romanzati, romanzare un po' il tutto la Juventus non può essere ceduta la parte dei membri che fanno parte della fondazione i membri poi da una fondazione possono anche uscire no? è ovvio che il povero avvocato ad oggi sentendo queste cose lì dentro non è che si ribalta e basta nella sua tomba secondo me sta facendo di tutto per risuscitare sta cercando il modo di tornare in vita per cercare di far svegliare qualche nipote noi abbiamo parlato male di Andrea Agnelli perché ha fatto un milione di cagate abbiamo parlato male di paratici, dei dirigenti perché hanno fatto un milione di cagate ma da farzopoli ad oggi l'unica persona che ci doveva difendere era il proprietario il cosiddetto John Elkan che ha fatto tutto si è calato le braghe si è messo a 90 ha fatto di tutto tranne che difenderci una volta perché era troppo giovane una volta perché non voleva mettersi contro l'ingiustizia sportiva e quindi ad oggi se mi dicono sì la Juventus è in vendita cazzo quanto è che vi si dice? quanto è che nelle mie live sentite dire in quelle di altri youtuber che io frequento? quanto è che lo sentite dire? cioè cominciate a svegliarvi non è che poi potete venire qui quando domani la Juventus verrà ceduta è ovvio non è una cosa in questione di giorni ma sono questioni di anni ma non è che quando verrà venduta arrivate e tornate indietro e dite ah no allora effettivamente avevi ragione qualcun altro aveva detto delle grandissime stronzate non funziona così o vi schierate o noi ci ricordiamo di voi ci ricordiamo delle bandiere no? quindi io ho la memoria abbastanza lunga per fortuna ancora non soffro di nessun morbo o nessuna demenza senile perché ho 37 anni ma non sono così vecchio e il cervello ancora funziona abbastanza bene perché nella vita devo fare un botto di cose quindi se non mi funzionasse bene sarei nella merda fino al collo detto questo perché arriva la smentita? arriva la smentita perché è proprio lì che quando arriva la smentita ti va a confermare l'esatto contrario perché ovviamente cosa devono dire? sì la vendiamo almeno sì si crea un'asta al ribasso cioè se ti fai capire di avere problemi economici a una banca tutte le banche vengono da te di un questo ha bisogno quindi cerchiamo di tipo io te li do prima però te ne do meno ti servono nell'immediato ti riparo io tutto e lo devo riparare però ti do un tasso di interesse più alto che vuol dire faranno un'asta al ribasso quindi la Juventus ha tutto il suo interesse la Exor ha tutto il suo interesse di dire che la Juventus non è in vendita perché vendita ad oggi vorrebbe dire svendita cosa si sta facendo all'interno invece? si sta cercando di ovviamente fare un delisting per uscire piano piano dalla borsa e si sta cercando di ripianare come vi dicevo già dai tempi del calcio mercato e voi ancora a dare contro perché voi avete la testa inculcata delle puttanate che qualcun altro vi dice mi dispiace dirlo ma è così quindi non avete capacità di ragionamento ma avete semplicemente prendete ah ma lui quanti iscritti ha? 3.000 questo quanti iscritti ha? 50.000 mi prostro non è così che funziona perché anche quello ne ha 50.000 un giorno ne ha avuti 3.000 bisogna vedere come si è fatto arrivare a 50.000 bisogna vedere anche quello se giocando pulito o giocando sporco vedo tanti che si comprano centinaia di iscritti uno youtuber l'altra sera mi fa mi fa vedere non faccio nomi ragazzi perché è così mi dice oh ma hai visto che quello sono andato a dormire quello ci aveva tipo 24.000 iscritti la mattina dopo aveva 26 ora non mi ricordo il numero esatto però durante la notte salgono migliaia di iscritti lasciamo perdere quando il canale non si muove è fantastico però quando si muove scendono vabbè considerazioni vostre vi voglio a sto punto lasciare nelle vostre mani camminare le vostre gambe ragazzi voi che ci seguite perché dovete fare voi pace con la vostra coscienza e sapere voi chi seguire non ve lo devo dire io mi sono rotto i coglioni se mi volete seguire seguitemi se non mi volete seguire attaccatevi al cazzo perché poi domani se venite a pigolare a dire si avevi ragione io vi sfanculo perché così funziona perché a trattare sempre bene le persone si prende sempre in quel posto lì e ora mi sono rotto i coglioni mi sono rotto i coglioni la Juventus intanto stavo dicendo cosa sta facendo sta ripianando tutti i conti sta cedendo tutti i giocatori che prendono troppo sta reintegrando giovani o dalla primavera o da altre squadre che hanno stipendi più bassi per far sì che il debito si abbassi i conti vadano in pari e poi da lì ovviamente come se io dico devo vendere una macchina incidentata cazzo prima gli faccio fare due riparazioni e poi la metto in vendita perché almeno è più appetibile è come il discorso di abbassare i contratti a gente come Cesner e Rugani perché si abbassa e si spalma non perché si punta su di loro ma perché se va male che non vanno via li paghiamo meno anno dopo anno se vanno via è più facile vadano via perché le società non devono pagare fior di milioni per acquisire le prestazioni di un giocatore che ad oggi vale meno di quel valore lì ok vediamo se è chiaro il concetto quindi la Juventus è in vendita c'è poco da fare poco da discutere ma non da oggi però quando si diceva no escono gli articoli dei giornali presi sicuramente da persone anche su YouTube perché non pensate siamo tutti fessi non pensate siamo tutti fessi quando vedete delle live in cui c'è 100 spettatori e ne parlano 50 gli altri 50 chi sono? fatevele ogni tanto qualche domanda apritelo il cervello utilizzatelo bene se volete saperne di più ci vediamo oggi in live 14.30 e ne parliamo per chi ha ancora domande siamo qui a rispondere non so se sarò da solo se ci sarà qualche mio collega devo vedere dipende dagli impegni che hanno tutti abbiamo una vita io però oggi mi prendo l'impegno di venire in live 14.30 sullo stesso canale Gobbo Toscano nel frattempo iscrizione e like se volete se no potete andare ciao